In cosa consiste una mia normalissima passeggiata per Roma? Allora iniziamo da uscire da casa e potete vedere già che alla fine non sarà poi così normale come passeggiata. Vediamo il resto. Allora dopo aver visto l'entrata delle carrozze del palazzo del 1870 nel quale vivo che è un palazzo fatto costruire per i piemontesi che arrivarono subito dopo l'Unità d'Italia e quindi è uno di quei palazzi chiamati Umbertini. Andiamo a vedere cosa ci riserva il resto della passeggiata. Solo pochi minuti dopo si arriva in via Merulana che è la via conosciuta per il libro Quer pasticciaccio brutto di via Merulana che è scritto da Gadda e che ha la particolarità come strada di collegare due basiliche. la basilica di San Giovanni Laterano da questo lato diciamo se io vado un po' più in qua anche se non credo che si vedrà fino in fondo oppure girandosi dall'altro lato ci troveremo di fronte la basilica di Santa Maria Maggiore. ma ora continuiamo la nostra normalissima passeggiata con solo pochissimi minuti si arriva camminando attraverso il quartiere dell'Esquilino poi quartiere Monti e si arriva a Colleoppio Colleoppio che è un parco con una vista strepitosa sul Colosseo dove tante persone vengono a trovare un po' di fresco, di riposo con una vista impagabile dove le mamme portano i bambini a giocare i padroni portano i cani a passeggiare e nel mezzo una bellezza che solo Roma può dare Roma con diciamo tutti i suoi compromessi con con tutte anche le sue brutture solo che le bellezze di Roma sono talmente impressionante dovunque ci si giri che effettivamente compensano qualsiasi problema come potete vedere siamo in presenza di palme gigantesche e di un posto che forse per la sua cosa più importante oltre naturalmente la presenza del Colosseo alla fine di questa breve passeggiata è stata nascosta per tantissimi anni per secoli in realtà cioè l'ingresso alla casa di Nerone la famosa Domus Aurea e anche per questo è proprio questa strada si chiama Domus Aurea forse pochi sanno che la casa di Nerone comprendeva anche lo spazio dove ora sorge il Colosseo anche perché era uno spazio pieno d'acqua prima che fosse prosciugato dagli stessi romani e naturalmente già si intuisce che quello che potrebbe più impressionare è il fatto che una normale passeggiata di pochi in foto centinaia di metri dalla casa possa includere delle bellezze del genere ma vi dirò che ancora non è assolutamente niente vedrete quello che segue il punto ora è capire quali bellezze andare a vedere perché potremmo salire di qua e andarci a vedere tutta quella parte che dietro il Colosseo porta fino a Monti oppure scendere di qua e vedere i fori direi che per oggi andremo con i fori e la prossima volta magari cambiamo percorso questa è via la Bicana come vedete che finisce al Colosseo ed eccoci qua in via dei fori imperiali con il Colosseo alla nostra sinistra con le oppio alla nostra destra e i checkpoint dell'esercito che ci ricordano ancora quello che è successo in altri paesi con il problema del terrorismo internazionale e che fa sì che in molti posti dove diciamo si presuppone che possa esserci un attacco ancora vengano proposti questi checkpoint che dall'altra parte diciamo si sono resi meno necessari in periodo di covid come vedete questa parte qua con dietro il Colosseo purtroppo interessata dai lavori della linea C della metropolitana altro diciamo problema in Roma che qualsiasi lavoro dura decine d'anni senza speranza di poter mai vedere la fine e per questo anche non entreremo a vedere il resto come l'arco di Costantino e la parte dietro del Colosseo perché in questo momento ci sono troppi lavori e non ne avrebbe senso quello che già riusciamo a vedere da qua che in fondo si trova l'altare della patria mentre al lato abbiamo lavori su lavori che non finiranno mai e niente continuiamo la nostra passeggiata alla ricerca non solo della bellezza di Roma ma anche di un luogo un po' più tranquillo e meno rumoroso certo a Roma a un certo punto si arriva anche in posti dove non ci sono lavori e guardate che cosa si può ammirare dal foro di agosto fino al mercato di Traiano all'altare la patria un tripudio di bellezza all'altare certo che sembra strano sembra strano in questo periodo vedere un posto come fori imperiali praticamente senza turisti comunque pochissimi la maggior parte in effetti vivono qua questa che è una città dove dove il turismo era la normalità dove si passava da 3 milioni di romani diciamo di gente viva a Roma a quasi 23 milioni compresi tutti i turisti durante l'anno e come dire triste ma nello stesso tempo molto bello poter apprezzare Roma senza troppa gente anche se appunto un po' è cambiata la natura di questo posto con il con il covid comunque bando alle tristezze alle ciance e continuiamo la nostra passeggiata a Diciamo che certamente poter arrivare qui in fondo una decina di minuti a piedi e possiamo dire un privilegio. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti.